Siamo benvenuti a tutti avete qualche domanda qualche dubbio su quello che abbiamo visto fino qui. Tienen alcuna pregunta, alcune dudas, soprattutto lo che abbiamo visto hasta aquí? Sì, no? Tienen dudas? Sì, no? Ci sono domande? Tutto chiaro, professoressa. Ok. Allora, eravamo rimasti a pagina 80. Dovevamo iniziare con l'esercizio numero 9. In questo esercizio, ok, ascolterete un dialogo, ok? Dovrete osservare queste immagini e dovete segnare le indicazioni, quindi dovete ascoltare e semplicemente indicare quali di queste indicazioni stradali vengono date. Quindi dovrete dirmi se sentirete se gli è stato detto di andare a destra o a sinistra o dritto o un semaforo, una traversa, un incrocio, ok? Inoltre dovrete poi anche indicare su questa cartina, ok, la direzione, qual è stato il cammino che è stato seguito per arrivare dall'hotel fino al ristorante da Mario, ok? E, por finir, tienen tambien que llenar este dialogo, ok, che es el mismo que van a escuchar inserendo le parole che ci sono qui sopra, ok? Quindi sono tre cose che dovete fare. Indicare quali parole ascoltate, ok? Tra quelle dell'immagine, tra quelle di questa immagine che sono qui riprodotte, quali di queste parole. Poi dovete indicare, disegnare sulla cartina la direzione, ok, il cammino che è stato fatto e poi completare il dialogo. Ve lo farò ascoltare due volte. Adesso inizia. Mi scusi, sa se c'è un ristorante qui vicino all'hotel? No, mi dispiace. Però qui a destra c'è una birreria. Veramente non bevo birra. Ah, capisco. Peccato perché è un locale molto bello. Grazie lo stesso. Ah, senta, se vuole c'è la trattoria da Mario, su una traversa della nostra strada. Fa cucina tipica. Ah, va bene. E dov'è? Allora, lei esce dall'albergo e va subito a destra. Poi continua dritto. Attraversa la piazza. E poi alla prima, no, alla seconda traversa gira a sinistra. E lì, proprio accanto al cinema, c'è la pizzeria. Ve lo faccio riascoltare. Mi scusi, sa se c'è un ristorante qui vicino all'hotel? No, mi dispiace. Però qui a destra c'è una birreria. Veramente non bevo birra. Ah, capisco. Peccato perché è un locale molto bello. Grazie lo stesso. Ah, senta, se vuole c'è la trattoria da Mario, su una traversa della nostra strada. Fa cucina tipica. Ah, va bene. E dov'è? Allora, lei esce dall'albergo e va subito a destra. Poi continua dritto. Attraversa la piazza. E poi alla prima, no, alla seconda traversa gira a sinistra. E lì, proprio accanto al cinema, c'è la pizzeria. Allora, vediamo. Antonio, quali di queste immagini che sono qui riprodotte sono state citate, sono state chiamate? Disculpe, mi stava preparando un caffè e mi salté dell'esercicio. Ok. Ariel, quale di queste immagini sono state chiamate, sono state usate? A destra, dritto e attraverso. Ok. Però? Te ne manca una anche? No, non ho scusato. Ok. Ok, vediamo. C'è qualcuno che ha segnato un'altra direzione? A sinistra. A sinistra. Ok. Va bene. Allora, inviate. Allora, dovete disegnare adesso su questa cartina. In il mapa, tienen che dibujare il cammino che ha seguito, che il signor, il chico, ha fatto, salendo dal hotel che sta qui, per arrivare al hotel, al restaurante, perdone, da Mario. Hagan una foto al mapa con il dibujo che avete fatto per vedere e la invien in il gruppo di Whatsapp. Allora, vediamo chi ha indovinato il cammino corretto. Allora, vediamo chi ha detto che hai dovuto fare l'ocopio. la tengo per la compu ok però i altri qui vediamo Jessica ho ricevuto la tua i altri professoresa io non sono sicura se ho sentito bene potremmo ascoltare una volta più no, perché mi sto facendo acostumbrare anche al examen simplemente due volte se va a escutar lo che possiamo fare se non ho capito bene, è andare a leggere il testo ok, questo stesso è lo stesso che avete ascoltato ok, ho ricevuto la di Carmen e la di Andrea allora, vediamo il testo poi vediamo quale di queste mentre mandate le vostre cartine poi vediamo quale è la corretta allora Ariel inizia a completare il dialogo mi scusi mi scusi mi scusi prova a vedere qua sopra ci sono queste parole che sono quelle da poter inserire allora mi spiace è un comune mi sculpa lo sento che intonse già e sta il mi scusi ok e poi ti dice c'è un ristorante qui vicino hai un ristorante a chi cerca qual potrebbe essere per lo meno basta ridurre a due tra quali hai i dubbi sa se giusto è corretto sabe sì è corretto giusto quindi mi scusi sa se c'è un ristorante qui vicino all'hotel bene vai avanti ok sa se c'è un ristorante qui vicino all'hotel qui qui vicino qui vicino all'hotel no mi dispiace però qui destra c'è una birria qui qui a destra c'è una birria veramente non bevo birra ah capisco peccato peccato perché perché è un locale molto bello ok grazie lo stesso va bene fermati Bernardo Asciutto puoi andare avanti per favore se vuole c'è la trattoria da Mario su una traversa della nostra strada fa cucina típica va bene e dove allora lei esce dell'albergo e va subito a destra poi continua dritto attravesa la piazza e poi alla prima no alla seconda traversa gira a sinistra e lì gira a gira gira a sinistra e lì proprio accanto al cinema c'è la pizzeria ok allora per disegnare il percorso sulla cartina qual è la parte importante del dialogo che dovete capire è questa parte finale vi dice esce dall'albergo ok allora prendete la cartina vi dice esce dall'albergo ok va subito a destra quindi questa è la direzione che deve prendere ma subito a destra poi continua dritto quindi va dritto attraversa la piazza questa è la piazza bisogna attraversarla cruzar attraversare la piazza e poi alla prima che questa però dice no alla alla seconda traversa ok ossia alla seconda caglia che che si incontra gira a sinistra e lì proprio accanto ossia giusto al lato del cinema c'è il ristorante da mario ok chiaro il percorso la maggior parte di voi lo avete indovinato però c'è qualcuno che no dalle immagini che ho visto ok quindi guardate bene qual è il percorso quindi esce dall'hotel sempre dritto alla seconda alla seconda a sinistra e si arriva da mari ok è chiaro chiaro professoressa ok ci sono domande sul dialogo parole dubbi su questo dialogo che non avete capito allora c'è guardate questo rettangolo c'è un ristorante qui vicino hai un ristorante a chi cerca ok questa è la corrispondenza in spagnolo oppure dov'è il ristorante dove si encuentra o dove sta il ristorante attenzione che no è la misma pregunta ok non hanno lo stesso significato la prima comporta come risposta o se arriva come risposta o se arriva come risposta o se arriva come risposta simplemente sì o no hai sì o no nada mas però se ustedes quieren saber cómo llegar en algún lugar tiene que decir dove ai entonces van a recibir como respuesta la dirección o sea andare dritti girar a destra girare sinistra attraversare una piazza questo è la domanda questa è la domanda per avere delle indicazioni ok ok professoressa allora facciamo questo gioco guardate sempre la cartina questa dell'esercizio 9 ok e vediamo chi indovina dovete dirmi a quale numero si trova in quale numero ok si trova la cassa di risparmio lei esce dall'albergo ustedes tienen que seguire nel mapa i buscara qual numero corrisponde la cassa di risparmio a lei esce dall'albergo va dritto fino al terzo incrocio poi gira a destra va dritto fino a un semaforo poi gira a sinistra e subito dopo c'è la cassa di risparmio a quale numero corrisponde la cassa di risparmio o no pudieron llegar a la cassa di risparmio o no pudieron llegar a la cassa di risparmio o no hola mi escuchan si te escuchavo profe io sto buscandoti ok ok bueno por lo meno me danno una risposta oh bene Antonio 11 todo este acuerdo con el 11 di Antonio si si tutti d'accordo si professoressa professoressa ok corretto vediamo adesso nella lettera b allora vi dice lei esce di qui quindi siamo sempre dall'albergo eh sempre dall'albergo alla partenza lei esce di qui va subito a destra arriva fino al primo incrocio e gira a sinistra va avanti e al primo incrocio gira a destra e lì c'è la stazione a quale numero corrisponde la stazione? a quale numero corrisponde la stazione? dieci o dieci dieci Antonio o dodici quale? a dieci ok tutti d'accordo con Antonio Sì, professoressa. Sì, professoressa. Sicuri? Sicuri? Vediamo, quanti dicono 9 e quanti dicono 10? Chi ha ragione? A me sembra complica. Allora, andate tutti sulla cartina. Guardate che a veces io vi ho una pregunta per traervi come un ingagno, però non è che si tiene che traervi un ingagno per le mie pregunte, eh? Allora, vi dice, sempre dall'hotel, ok? Dovete andare subito a destra. Arrivate al primo incrocio. Questo è un incrocio, ok? Girate a sinistra. Si va avanti. Al primo incrocio, cioè che questo incrocio, girate a destra. e quindi lì c'è la stazione. Quindi la stazione è corretto. Quello che ha detto Antonio corrisponde al numero 10. Ok? Ci siete? Ok, professoressa. Se abbiamo perdito. Los demás? Se ubicaron? Professoressa, una pregunta. Esa non seria una traversa in lugar di un incrocio? Perché sta alla derecha dell'hotel? Allora, dipende come può essere considerato, ok? Molte volte, ovvio, il vero incrocio è praticamente quando le due strade sono una perpendicolare all'altra. Questo è un incrocio, ok? Ma molte volte lo stesso incrocio, ok, è semplicemente fatto in questo modo, perché dall'altra parte non c'è la possibilità che la strada possa continuare, ok? È come una una traversa, ok? Sono sinonimi in realtà. Il vero incrocio, sì, è quello in cui ci si trova in questa condizione, cioè due strade, ok, che si incrociano, ok? Però può essere anche considerato semplicemente una strada che cruza o tra, ok? Traversa, sì, viene utilizzato, ok? Però molte volte, anche per facilità, viene detto come un incrocio, ok? Perché è più facile da capire come concetto, ok? Ok. Allora, andiamo avanti con l'esercizio numero 11. Anche in questo caso c'è una cartina, questa è la vostra cartina adesso, ok? Guardatela bene, perché adesso mi dovrete saper fare, creare delle frasi che corrispondono ovviamente alla cartina. In questo caso vi dice la chiesa è fra il museo e il teatro. Guardate, questa è la chiesa, si trova tra il museo, che è qui, ed il teatro, che è qui, ok? Proviamo a vedere, Bernardo Vidal, prova a creare altre frasi. L'ufficio postale è? Bernardo Vidal è accanto alla banca. Allora, l'ufficio postale è accanto alla banca, ok? Il distributore è? Dietro la stazione. Ok, fermati lì. Arianna, il parcheggio è? Davanti alla scuola. Ok, il bar è? Arianna. Arianna. Il bar è? E non lo incontro. Ecco qui. Questo è il bar. Quindi? Dov'è il bar? Accanto alla banca. No, accanto alla banca è l'ufficio postale. Ma il bar? Dove si trova? Dove si trova? Eh? In spagnol, come se diria? Donde si incontra il bar? All'angolo. Ok, all'angolo. Corrisponde in spagnolo in la schina. L'angolo è una schina. Ok? All'angolo. All'angolo. Corrisponde in spagnolo in la schina. Per ultimo, Emma, la fermata dell'autobus è? La fermata dell'autobus è di fronte al supermercato. Ok. Allora, andiamo avanti e adesso facciamo questo giochino. Prendete la cartina, ecco, dell'esercizio numero 12. Allora, io mi trovo davanti alla stazione. Ok? E vi chiedo indicazioni per arrivare, voglio arrivare alla farmacia. Emma, che indicazioni mi dai? Io mi trovo alla stazione, devo arrivare alla farmacia. Come arrivo in farmacia? Usate il modello del dialogo dell'esercizio 9. L'ultima parte. Allora, lei esce. Questo è come dare le indicazioni in italiano, eh? Quindi? Allora, lei esce dalla stazione. Bene. Va subito. Traversa la piazza. No, 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 aspetta, dove vado? Vado dritto. Vado dritto, vado a sinistra, vado dritto, vado a destra. E va subito a la destra. A destra. A destra. A destra. Continua. Va a destra. Continua dietro. Dritto. Continua dritto. Alla prima. Alla prima. Alla prima. attraversa. Gira. A sinistra. Bene. E se la farmacia. No, aspetta, gira a sinistra. Continua dritto, perché vedi che c'è un bel pezzo, quindi mi devi dire di? Continua dritto. Dritto. E poi? Fino a quando? Vado avanti sempre? Alla prima. Ok. Traversa. Gira. Sì. A sinistra. Bene. E se la farmacia. C'è. C'è. Se c'è la farmacia. Ok. Molto bene, Emma. Renato, mi trovo alla stazione e voglio andare in banca. Come faccio? Come arrivo in banca, Renato, dalla stazione? Subito. 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 Subito a destra. Allora. Esce dalla stazione. Va subito a destra. Ok. Poi? Mi devi dire di? Continua. E poi continua dritto. No. Benissimo. No. Alla seconda traversa. Occhio. Eh, la seconda traversa è questa, eh? Questa è la seconda traversa. Però io devo arrivare qua. Alla terza traversa. Ok. Dove vado? No. E gira a sinistra è lì. Bene. E lì? E lì? E lì la banca. E lì c'è. C'è la banca. C'è la banca. Ok. Molto bene. Diana. Sono alla stazione e voglio andare all'ufficio del turismo. Come arrivo? Lei è dalla stazione. Bene. Va subito a sinistra. Ok. E continua dritto alla prima traversa. Ok. Aspetta. Più che traversa è proprio questo classico incrocio. Cosa devo fare all'incrocio? Devo girare? Devo andare dritto? Dove vado all'incrocio? Allora. Esco dalla stazione. Esce dalla stazione. Va dritto fino all'incrocio. Attraversa l'incrocio. L'ufficio postale è all'angolo. Ok? Ok. Ok. Sulla destra, se vuoi essere ancora più precisa. È all'angolo sulla destra. Ok? Ok. Ok. Mi trovo alla stazione e voglio andare in ospedale. Come ci arrivo? Esce dalla stazione. Ok. Va subito a la sinistra. Continua dritto, fino a quando? Continua dritto, poi attraversa cosa? La terza attraversa, gira la destra. Ok, prima di va bene la terza attraversa, ok? Potresti anche dire va dritto, attraversa un incrocio, continua dritto, attraversa la piazza ed alla terza attraversa. Ok, cosa devo fare? Continua dietro. Aspetta, la terza attraversa, vado dritto, giro. Giro alla destra. Gira, lei gira. A destra, non alla destra, a destra. Gira. Come si dice? Siga derecho. Siga recto. Continua dritto. Alla seconda attraversa, gira alla destra. A destra. A destra. E lì. L'ospedale. E lì c'è l'ospedale. Come sono le indicazioni in italiano, facili o difficili? È facile o difficile dare l'indicazione? È complicato. Difficile. Difficile. Beh, rispetto alla Bolivia dove si danno le indicazioni è sempre ai sito, ai sito. E ai sito sono come un chilometro se uno tiene che camminare. Questo sempre mi ricordare la prima volta. La pregunta che si è ai sito, ai sito, signorita. Eh sì, ai sito erano chilometro che tenia che camminare. Però, bueno. Ok. In italiano è anche questa cosa. Almeno non so in Argentina, ma in Bolivia sono quadras. Ok? Si parla di quadras. Ok? In italiano avete visto che non ci sono le... Non si parla di quadras. Ok? Si parla di strada. Ok? Caglie. Via. Strada. Sono tutti sinonimi, eh? Quindi di via, piazza, incrocio, traversa. Ok? Ma se dovete chiedere anche una quantità, cioè una distanza. Ok? Non è che vi viene detto sono cinque quadri o cinque quadras. Cinque quadras. Ok? No. Ma vi viene detta una distanza in metri. Ok? Ok? Quindi se voi chiedete sono distante, quanto sono distante, in italiano la risposta sarà un chilometro, sono cinquecento metri circa. Ok? La risposta sulla distanza viene data in metri. Ok? O al massimo in tempo di percorrenza. Ok? Sono cinque minuti. Ok? Ok? Però quasi sempre sono reali. No? È come il ai sito che dopo sono dieci chilometri o una ora di camminata perché ai sito. Ok? Ok? Ok. Quindi quasi sempre è reale, ok? La quantità di tempo o la distanza. Ok? Ok, professoressa. Ok? È chiaro? È tutto chiaro anche per gli altri? È tutto chiaro, professoressa. È tutto chiaro. È chiaro. È chiaro. Ok. C'è qualcuno che sta in Bolivia, vediamo, qualcuno dei boliviani, da volte delle indicazioni dicendo è ai sito, però in realtà non è ai sito, osea non è così tanto vicino. Vediamo, qualcuno suele dar, dicere questo, tranquillo, sta ai sito, però in realtà falta molto più per arrivare. È qualcuno di loro che le passa a dire, sta ai sito, però in realtà non era ai tan circa come può parecer con questa parola? In Santa Cruz non è così. In Santa Cruz è così o no? No. 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 Ok. Almeno no so. Yo hablo por Cochabamba, eso me pasó en Cocha. Si a mi me pasó mil veces, con el Acanomás. Ah, exacto. Acanomás. Acanomás. Exacto. Y luego era un Acanomás, después de una hora, ahí, aún no había llegado al lugar. Claro, Acanomás en auto era. Exactamente, sì. Esa era una forma molto, o sea, siempre me sorprendió esa, o sea, esa respuesta. Cuando preguntaba las indicaciones, siempre me quedaba sorprendida y siempre tenía miedo de decir miércoles, ahora cuánto tiempo tendré que caminar aún. o sea, es algo de particular, o sea, es algo muy diferente desde aquí, desde Europa, ok. Pero es algo que, o sea, se entiende también la cultura. Claro, para quien camina mucho suele siempre caminar o ir siempre en el coche, claro que le puede parecer nada, o sea, pero por el otro lado, no, no es así. Bueno. Sí, el tema acá es un desastre del sistema público, entonces tardan tanto que la mayoría la gente camina, entonces está muy acostumbrada a caminar muchas cuadras. Allá en Europa, por lo que me contó mi amiga, es totalmente distinto. o sea, es todo en punto, llegan todo en punto los buses, los trenes, todo. Sí, casi siempre, ok. Dipende soprattutto anche dalla città nella quale vi trovate, ok. Yo vi parlo de Milano, ok. Voi andate nella metropolitana e avete la quantità di tiempo da aspettare, quindi viene fuori tre minuti con il conto alla rovescia del tempo che manca per prendere la metropolitana, ok. Quanto tempo di percorrenza, lo stesso vale per gli autobus, quanto tempo dovete aspettare per il prossimo autobus, ok. A volte sì ci sono dei ritardi, ok, assolutamente. Non è che siamo fiscali precisi, assolutamente. Soprattutto per i treni ci sono molti ritardi, ok. Non sempre vengono rispettati gli orari, però almeno si sa qualcosa, ok. Meno io ho l'esperienza di Cochabamba, non si sapeva i mezzi quando arrivavano, quando arrivassero, se erano appena passati o no. E quindi era aspettare e poi camminare giustamente. Mentre qui, almeno, ovviamente sono grandi città, quindi la questione di camminare risulta un po' difficile. E quindi ovviamente ci si trova un po'... è abbastanza diverso questo tipo di risposta. Allora, vediamo l'esercizio 13. L'esercizio numero 13 è un dialogo, ok. Lo dovete ascoltare, rispondere alle domande, ok. Quindi scegliere la soluzione quale delle due opzioni è la corretta per ciascuna affermazione. Poi, secondo esercizio, dovete collegare, ok, le frasi, le domande dei numeri con le risposte, ok. Le domande o le affermazioni con i numeri con le affermazioni con le lettere. Terzo esercizio, anche in questo caso, dovete disegnare sulla cartina il percorso che è stato realizzato per arrivare dal punto A. A mi dovrete dire voi se il punto C o il punto B. I mi dovete, e mi dovete, scusate, indicare il percorso che è stato seguito per arrivare. Ok, sono tre cose che dovete fare. Come sempre ve le faccio ascoltare il dialogo due volte, ok. Cercate di prestare attenzione a quello che viene detto. Adesso inizia, si sta caricando. Buongiorno, mi scusi. Dica. Sa dove è il Palazzo della Ragione? No, mi dispiace, non sono di qui. Oh, scusi tanto. Prego, si figuri. Scusi, lei è qui di Padova? Sì, mi dica. Come faccio ad arrivare al Palazzo della Ragione? Vuole andare a piedi o in autobus? Se non è lontano, preferisco a piedi. No, non è lontano. Ci mette dieci minuti e un quarto d'ora. Allora, da qui va dritto fino a un grande incrocio. Lì gira a destra e prende corso Giuseppe Garibaldi. Dopo un po' arriva a Piazza Garibaldi, attraversa la piazza e continua verso destra. Oddio. No, guardi, è facilissimo. Deve continuare sempre dritto percorso Garibaldi e alla seconda traversa gira a sinistra. Ah, e come si chiama questa strada? Via Busonera, credo. Ma è facile da riconoscere perché a destra c'è una grande piazza, Piazza Insurrezione. Lei invece gira a sinistra in questa via e continua sempre dritto anche dopo l'incrocio con Via Santa Lucia. Dopo meno di 200 metri arriva Piazza dei Frutti e proprio lì davanti c'è il Palazzo della Ragione. Ok. Allora, dritto fino a Corso Garibaldi, poi attraverso la piazza e continuo. Poi alla seconda giro a sinistra e continuo dritto dopo l'incrocio. Alla fine arrivo alla piazza con il Palazzo della Ragione. Esatto. Comunque, se ha problemi, può chiedere ancora. Ma no, non so di aver capito. La ringrazio infinitamente. Non c'è di che. Ve lo faccio riascoltare. Traccia 48 Buongiorno, mi scusi. Dica. Sa dov'è il Palazzo della Ragione? No, mi dispiace, non sono di qui. Oh, scusi tanto. Prego, si figuri. Scusi, lei è qui di Padova? Sì, mi dica. Come faccio ad arrivare al Palazzo della Ragione? Vuole andare a piedi o in autobus? Se non è lontano preferisco a piedi. No, non è lontano. Ci mette 10 minuti e un quarto d'ora. Allora, da qui va dritto fino a un grande incrocio. Lì gira a destra e prende corso Giuseppe Garibaldi. Dopo un po' arriva a Piazza Garibaldi, attraversa la piazza e continua verso destra. Oddio. No, guardi, è facilissimo. Deve continuare sempre dritto percorso Garibaldi e alla seconda traversa gira a sinistra. Ah, e come si chiama questa strada? Via Busonera, credo. Ma è facile da riconoscere perché a destra c'è una grande piazza, Piazza Insurrezione. Lei invece gira a sinistra in questa via e continua sempre dritto anche dopo l'incrocio con Via Santa Lucia. Dopo meno di 200 metri arriva Piazza dei Frutti e proprio lì davanti c'è il Palazzo della Ragione. Ok. Allora, dritto fino a Corso Garibaldi, poi attraverso la piazza e continuo. Poi alla seconda giro a sinistra e continuo dritto dopo l'incrocio. Alla fine arrivo alla piazza con il Palazzo della Ragione. Esatto. Comunque, se ha problemi, può chiedere ancora. Ma no, penso di aver capito. La ringrazio infinitamente. Non c'è di che. Ok. Allora, proviamo a vedere. Jessica, mi puoi dire quali sono le opzioni corrette? No. Verona. Proviamo a vedere. Sì, professoressa, la prima non la intendi, però tengo la semassa. Sì. Allora, il Palazzo della Ragione. Vediamo. Chi l'ha capito? Il Palazzo della Regione? È un po' lontano da Largo Europa. Allora, il Palazzo della Ragione è un po' lontano da Largo Europa. Allora, in realtà gli dice che è vicino, non gli dice che è molto vicino, però neanche che sia lontano. Quindi va bene, è un po' lontano. Va bene. Verona, andiamo avanti. Il turista? Va a piedi. Ok. Poi? Il turista deve attraversare due piazze e superare un incrocio. 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 Benissimo. Poi? Il turista deve arrivare al punto C. Benissimo. Vai avanti anche con il successivo esercizio. Sì? Sì. Sì? Ah, sì. E sa dove il Palazzo della Regione? No, mi dispiace. Non sono di chi? Di qui? Qui? Di qui. Ok. Oh, escusi tanto. Prego si figuri. Ok. La ringrazio infinitamente. Non c'è di che? Giusto. Ok. Vediamo adesso come avete disegnato il percorso. Fate la fotografia e mandatela nel gruppo, per favore. Vediamo se avete capito il percorso che è stato seguito. Tanto che mandate le foto, lo vediamo anche insieme. Quindi voi siete la lettera numero A. Lettera A, scusate. Vi dice che dovete andare dritto fino a un grande incrocio. Questo è il grande incrocio. Ok? Girate a destra. Quindi dovete scendere da questa parte. Ok? Su corso, vi dice, su corso Garibaldi. Fino alla seconda traversa. Prima. Seconda traversa. Ok? A sinistra. Alla seconda traversa dovete girare a sinistra. Dovete andare dritto fino a via Buso Nera, che è questa. e poi dovete continuare dritto, attraversare la Piazza dei Frutti, perché giusto di fronte alla Piazza dei Frutti si trova il punto C. Quindi si trova il Palazzo della Ragione. Vediamo se lo avete fatto correttamente. Ok. Occhio che non è, non c'è stato nessun passaggio per via Risorgimento, eh. Ma direttamente da Corso Garibaldi alla seconda si è scesi per via Buso Nera. Ok? Bene. Occhio. Il percorso corretto è questo, eh. Ho visto che la maggior parte lo hanno indovinato. Ok? Lo avete fatto correttamente. Allora, il percorso è questo, eh. Allora, si scende, ok? Si percorre il Corso Garibaldi, poi alla seconda si scende per via Buso Nera e si poi attraversa la piazza perché di fronte si trova il Palazzo della Ragione. Questo è il percorso. Ok? C'è qualche domanda, qualche dubbio su questo esercizio? Qualche parola che non avete capito? Qualche dubbio? Curiosità? Tutto a posto? Si figuri, che significa? Ok. Allora, il si figuri, prego si figuri. Questo si figuri è come un sei in macchina. Ok? Cioè, quando si dice questo prego, che è il de nada, ok, è come a dire, non mi deve ringraziare, cioè non mi deve dire nulla. È stato un piacere per me aiutarla. Si figuri. Ok? Si in macchina. Allora, l'esercizio numero 12 è la stessa cartina del, come si dice, dell'esercizio. Vedete che vi ritrovate la stessa cartina, solo che con le indicazioni di altri luoghi. Qui c'è la libreria, trovate l'hotel Europa, trovate il cinema, trovate poi il supermercato. Scegliete come compito per settimana prossima. Il luogo vamo sablar dello che va a passare il lunes, però come tarea mi ha sempre iscritto, ok? Proprio scrivete indicazioni per arrivare. Adesso lo scrivo. Iniziate l'esercizio scrivendo indicazioni per andare dalla stazione a, e può essere il cinema, può essere la farmacia, può essere la banca, l'ospedale, l'ufficio del turismo, quello che volete. Ok? E scrivete le indicazioni stradali. Ok? Potete farlo per alcuni di questi luoghi, ok? Proprio come forma di esercizio. Ricordatevi che si dice a sinistra, a destra, non alla sinistra, alla destra. A sinistra, semplicemente a. Ok? Preposizione semplice. È chiaro? Tutto è chiaro. Ok. Tutto è chiaro, professoressa. Ok? Andiamo avanti con l'esercizio 1. A che ora? Dovete collegare i dialoghi con le immagini a cui corrispondono. Anche in questo caso vi farò ascoltare i brevi dialoghi, dovete collegarli con le immagini a cui si riferiscono. Ok? Come sempre ve li farò ascoltare due volte. Come non detto, allora... Traccia 49. Uno. E scusi, a che ora parte il prossimo autobus per Monte Cassino? All'uno e mezza. Due. Quando arriva il treno da Perugia? Alle diciotto e trentadue. Tre. A che ora comincia l'ultimo spettacolo? Alle ventidue e quindici. Quattro. A che ora chiude il museo? A mezzogiorno. Me lo faccio riascoltare, eh? Traccia 49. Uno. Uno. E scusi, a che ora parte il prossimo autobus per Monte Cassino? All'uno e mezza. Due. Quando arriva il treno da Perugia? Alle diciotto e trentadue. Tre. A che ora comincia l'ultimo spettacolo? Alle ventidue e quindici. Quattro. A che ora chiude il museo? A mezzogiorno. Ok, Ariel, proviamo a vedere. Leggi i dialoghi e abbinali all'immagine a cui corrispondono. Ok. Escusi. A che ora parte il prossimo autobus per Monte Cassino? All'una e mezza. B. Sì, sì, è corretto, corretto. Ok. Due. Quando arriva il treno da Perugia? Alle diecioccio e trentadue. C. Diciotto e trentadue. Diciotto e trentadue. Ok, lettera C, corretto. Tre. A che ora comincia l'ultimo spettacolo? Alle ventidue e quindici. Giusto. E D. Corretto. Infine l'ultimo. A che ora chiude il museo? A mezzogiorno. A. Ok, corretto. Allora, se vedete l'esercizio numero due, ok? Allora, innanzitutto guardate il riquadro azzurro, ok? A che ora? Ricordatevi. A mezzogiorno. A mezzanotte. Ok. A luna. Una. Questo è per indicare appunto la una della tarde. All'una, ok? Può essere anche la una della madrugada, eh? All'una. Oppure alle diciotto e trenta. Guardate che in italiano non si usa, non si indicano le ore nel pomeriggio e nella tarde. Non si disse la cinque e mezza. Osea, se indicate le cinque e mezza, dovete indicare cinque e mezza del pomeriggio. Ok? Non si pone A M PM come in inglese. Questo è in inglese, ok? In italiano si deve dire del mattino o del pomeriggio. O se no, por convenzione, simplemente la maniana si utilizza lo numero de uno hasta il doce. Y luego, para lo che è la tarda e noce, de doce hasta las ventiquattro. Ok? Quindi si dirà alle diciotte e trenta che corrispondono solo a sei e media PM. Ok? Quindi la sei e media della tarda. Ok? Qui sotto vi mette un esempio dei cartelli, tranquillamente, che trovate comuni, che trovate fuori dai negozi, dalle farmacie, dalle palestre, dove vengono indicati gli orari di apertura e di chiusura di questi centri. Ok? Con l'indicazione anche, a volte, del giorno in cui restano chiusi. Quindi solitamente la domenica, il sabato o a volte restano chiuse anche la domenica. Eh, il lunedì, scusate. Ok? È chiaro? Sono simili questi orari, queste indicazioni di orari si trovano anche da voi? O ci sono delle differenze? Guardate gli orari. Anche da voi vengono rispettati questi orari oppure no? Anche da voi vengono rispettati questi orari, le indicazioni di orari di questa maniera, fuori di negozi, di gimnazio, di una farmacia. O come sono? Eh, sono uguali. Sono uguali. Ok? Quindi non ci sono differenze. Qui in Bolivia manevamo due tipi di orari. Il orario boliviano, che è il che si arriva dopo due ore, e il orario puntuale. Aspetta, aspetta. Allora, due tipi di... Allora, due tipi di orari, quello che si arriva puntuale e quello che si arriva dopo due ore, eh? Allora... Quando tiene una riunione, usted dice, per esempio, nos riuniamo a le 7 di la notte. Quindi la maggioria pregunta, horario boliviano o horario puntuale. Allora, qui è il orario boliviano, non ci arriva alle 9 di la notte. Ok. Questo sì, questo è vero. O sea, questo è un'altra cosa che anche bisogna prendere in considerazione quando si arriva in Europa. Ok? In Europa è difficile che voi ascoltare che dovete essere puntuali. Puntuali significa stare alla ora, eh? Puntuale. In Europa, quando vi viene detto un orario di un incontro, di una riunione, di qualsiasi cosa, è quello. Ok? Se avete anche solo 5 minuti di ritardo, si chiama. Ok? E' vero questa cosa dell'orario boliviano. L'orario boliviano. Lui io anche in la oficina lo tomavo e lo dice. Allora me dice, però che ora mi va a venir? Si è l'ora che io dico, che è l'ora di Europa o l'ora di qui. Perché se no, mi pongo a fare qualche altra cosa perché non va a arrivare alla ora. O sea, me lo voy a esperar 2 ore più tardi. E questo lo aprendi. Ok? Atenzione che in Europa non è così. Ok? In Europa, l'ora che si dice è l'ora. Ok? Però qui stiamo parlando, stiamo parlando del horario di attenzione nel negocio. Ok? E questo sempre si respetano. E la mia domanda era se, anche in Bolivia, hai horario nel negocio. O simplemente se abre desde le 7 da mattina e si cierra a le 8 da mattina. O sea, dopo le 12 ore. No, también tenemos los horarios así, en negocio igual. Ok, quindi ci sono gli orari. Va bene. Allora, abbiamo finito anche il capitolo 6. Ok? Ok? Avete la parte di comunicazione grammatica che, come sempre, vi invito a leggere. Ok? Hai che leerla in questa parte. Ok? È importante, è fondamentale. qui trovate tutto il riassunto sia della grammatica, tutti gli argomenti di grammatica che sono stati visti nel capitolo. Ok? Ok? Ma soprattutto anche quello che avete dovuto imparare dal punto di vista della comunicazione. Cioè, voi adesso dovreste essere in grado di dare indicazioni stradali in italiano. Ricordatevi poi la concordanza degli aggettivi con i sostantivi, come avviene in spagnolo. Ricordatevi la particolarità degli aggettivi che finiscono in co o ca. Ok? Perché hanno questa particolarità di una plurale in che, chi o, nel caso di tipico, non sarà il plurale tipi-chi, ma tipi-ci. Ok? Ok? Occhio alla pronuncia anche. Volvesse sempre a escuchar. Tienen también materiale del drive para escuchar texto en italiano. Ok? Necesitan mucho escuchar. Dovete ascoltare molto la lingua italiana per la pronuncia. Ok? Poi abbiamo la differenza di molto come avverbio o molto come aggettivo. In spagnolo è più facile. Voi utilizzate muy come avverbio e muchos o mucho, mucha, muchas come aggettivo. In italiano invece è la stessa parola solo che poi cambia. In alcuni casi concorda, deve essere concordato quando aggettivo con la parola a cui si riferisce. Invece quando avverbio è invariabile. Ricordatevi il c'è ci sono, ricordatevi la differenza tra c'è e dov'è e poi l'interrogativo quale. Ok? Ci siete? Tutto chiaro fino a qui? Ok. Allora. L'esercizio numero uno vi dice prima di guardare il video, l'episodio scusate, dovete osservare queste immagini e ipotizzare, ipotizzare queste frasi dall'uno alla sette chi le abbia dette, quale personaggio le abbia dette. Posto che non si capisce bene dalle immagini, ritengo che è un poco come un tempo perdido questo deve stare a immaginare perché non si intende, semplicemente mirando le immagini. scusate. Prefiero che, preferisco che, guardate il video due volte, facciate l'esercizio numero uno, l'esercizio numero due con il vero o falso. ok? Se riuscite a fare il numero quattro, ok? Però in realtà il numero quattro anche come esercizio, come esercizio, si può essere anche semplicemente leggendo. il numero quattro, i però è il numero cinque, ossia tiene che dibuccare nuovamente nel mappa il percorso che è stato fatto dai due ragazzi, ok? Quindi direi di iniziare subito con il video, come sempre due volte ve lo faccio vedere. Allora Vale, adesso dove andiamo? Beh, il museo civico secondo me è interessante, ci sono dei quadri famosi e... Va bene, dai! È lontano? No, qui è tutto vicino, anche a piedi. Allora, noi siamo qui nella piazza, andiamo dritti per questa strada e poi prendiamo la terza, sì, la terza a sinistra e lì c'è il museo. Però vedo che sulla strada c'è anche una bella chiesa del Trecento. Sì, ok, il museo, la chiesa del Trecento, ma ci sono anche delle trattorie tipiche perché io voglio anche mangiare, eh? Ma certo, il museo da mezzogiorno e mezza alle tre è chiuso, possiamo mangiare lì vicino. La prima a sinistra è una via con tutti i ristoranti e trattorie che fanno piatti locali. Benissimo, ci andiamo di sicuro allora. Che c'è? Niente, penso a Matteo e Federico in vacanza insieme, magari in una situazione come questa. Matteo odia le cartine e perde sempre la strada. E Federico che adesso usa solo il tablet. Hai ragione. Guarda, con il tablet è facile, impossibile perdere la strada. Ma sei sicuro? Dove siamo? Allora, noi siamo qui. Con il sole non vedo niente. Ma che dici? Dai, andiamo. Senti, prima di vedere questo castello, andiamo a mangiare qualcosa? Nessun problema, guarda. Scrivo. Ristorante. E lui dice dove dobbiamo andare. Ecco, vedi? C'è una trattoria tipica qui vicino. Boh, io continuo a non vedere niente. Ma sei sicuro? Certo. Dai, andiamo. Fede, ma dove vai? Aspetta. Senta, scusi, sa dove è un ristorante qui vicino? Sì. Certo, allora, deve andare sempre dritto. Poi prende la seconda, traversa a destra e poi subito la prima a sinistra. Non può sbagliare, il ristorante si chiama La Cantina di Bacola. Grazie. Dai, Matteo, andiamo? Allora, questa è via Portinale. è via Portinale, giusto? Eh? Ah, ecco, ecco. Allora, questa è la banca. Di fronte alla banca dritto e poi subito a destra. eh, è il tablet. Eh, è il tablet. rivedere, rivedere. Interessante, ci sono dei quadri famosi e... di fronte alla banca dritto. di fronte alla banca dritto. di fronte alla banca dritto. Allora, Vale, adesso dove andiamo? Beh, il Museo Civico secondo me è interessante, ci sono dei quadri famosi e... Va bene, dai. È lontano? No, qui è tutto vicino, anche a piedi. Allora, noi siamo qui nella piazza. Andiamo dritti per questa strada e poi prendiamo la terza... Sì, la terza a sinistra e lì c'è il museo. Però vedo che sulla strada c'è anche una bella chiesa del Trecento. Sì, ok, il museo, la chiesa del Trecento, ma ci sono anche delle trattorie tipiche, perché io voglio anche mangiare, eh. Ma certo, il museo da mezzogiorno e mezza alle tre è chiuso. Possiamo mangiare lì vicino. La prima a sinistra è una via con tutti i ristoranti e trattorie che fanno piatti locali. Benissimo, ci andiamo di sicuro allora. Che c'è? Niente, penso a Matteo e Federico in vacanza insieme, magari in una situazione come questa. Matteo odia le cartine e perde sempre la strada. E Federico che adesso usa solo il tablet. Hai ragione. Guarda, con il tablet è facile, impossibile perdere la strada. Ma sei sicuro? Dove siamo? Allora, noi siamo qui. Con il sole non vedo niente. Ma che dici? Dai, andiamo. Senti, prima di vedere questo castello andiamo a mangiare qualcosa? Nessun problema, guarda. Scrivo, ris-to-rante. E lui dice dove dobbiamo andare. Ecco, vedi? C'è una trattoria tipica qui vicino. Io continuo a non vedere niente. Ma sei sicuro? Certo. Dai, andiamo. Vede. Ma dove vai? Aspetta. Senta, scusi. Sa dove è un ristorante qui vicino? Sì. Certo. Allora, deve andare sempre dritto. Poi prende la seconda, traversa a destra e poi subito la prima a sinistra. Non può sbagliare. Il ristorante si chiama La Cantina di Bama. Grazie. Dai, Matteo. Andiamo? Allora, questa è via Portinari, giusto? Ah, ecco, ecco. Allora, questa è la banca. Di fronte alla banca dritto e poi subito a destra. Eh, è il tablet. Ok. Allora, proviamo a vedere. Eh, Emma, è l'esercizio numero uno. Eh, sì, professoressa. Sì, l'esercizio numero uno. Devi dirmi le frasi dalla 1 alla 7 a quale situazione appartengono. Eh, eh, no, no le entendì il ejercicio, professora. Osea, devo che, di acuerdo alla figura, eh, ubicar la, las orazioni. Esattamente, sì. Allora, vediamo. Chi è riuscito a fare l'esercizio numero uno? Chi dice la frase numero uno? A quale immagine corrisponde la frase numero uno? E uno e e C. Uno, C, ok. Poi? E due, B. Ok. Sì, la numero tre. Eh, tre. E B. E B. E B. No, gli dice. Allora, Vale, Vale è un diminutivo di Valentina. Quindi semplicemente ci sono le due ragazze. Quindi? L'immagine A. L'immagine A. L'immagine A. Quattro. E potrebbe essere anche C. Sì. Allora, la quattro appartiene a tutte e tre le situazioni. Alla situazione A, B e C. La numero quattro. Poi? E la quattro e... No, cinque. Cinque. Abbiamo detto che la quattro appartiene a tutte e tre le situazioni. La cinque. Fede, ma dove vai? Aspetta. Cinque. B. B. Ok. La sei. E A. Sei. Non può sbagliare, il ristorante si chiama la Cantina di Bacco. In realtà è la situazione numero C. È in quel momento che i due ragazzi hanno chiesto le indicazioni. Quindi C. La numero sette, invece? A. La numero sette è la A. Ok. Ok. È corretto, la A. Va bene. Vediamo il vero o falso. Antonio, vero o falso? Vero? Allora, leggi la prima frase. Il museo civico ha un orario continuato, vero? Sicuro? Falso? Esatto. È falso. Però perché? Vediamo se qualcuno ti aiuta. Chi ha capito perché è falso? È così. È così. È così? come risposta no 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 estamos hablando dell'orario del tipo di orario del museo numero uno il museo civico ha un orario continuato sia continuando significa seguido sia che nunca si erra se avrà la socia della maniana se si era la socia della tarde questo vuol dire un orario continuato che nunca si erra però è così il museo civico è chiudo a mezzogiorno ok chiude alle dodici ok fino alle quindici quindi dalle dodici alle quindici chiude quindi non ha un orario continuato ok va avanti antonio antonio si 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 a matteo non piace usare le mappe vero ok matteo e laura hanno fame vero vero esattamente avere fame vuol dire tener hambre e matteo e laura avevano fame ok matteo e frederico sbagliano 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 giusto strada una volta vero una sola volta sbagliano strada una volta una volta una volta una vez solo una no falso esatto perché sbagliano perché 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 credo che dan due volte due volte distinta credo che si equivocano due volte in il cammino esattamente esattamente sono varie volte che sbagliano strada ok poi vai avanti Federico non sa usare bene il tablet il tablet il tablet il tablet vero vero ok matteo e Federico vogliono visitare una chiesa chiesa falso benissimo ok l'ultima matteo non capisce l'indicazione del passante vero no aspetta matteo matteo si capisce eh è Federico che non le capisce ok va bene esattamente era falso ok vediamo la numero 3 invece bisogna abbinare queste immagini e i nomi allora lettera A museo a quale immagine appartiene? 1 2 o 3 questo è facile dai 3 3 giusto B castello 1 1 ok C chiesa a quale immagine? 2 2 ok Verona vediamo l'esercizio numero 4 dobbiamo rimettere in ordine il dialogo poner in ordine il dialogo e tambien vediamo che avete visto che hai qualcosa qui tambien hai che leggere e elegire qual delle due opzioni è corretta ok allora Verona inizia a leggere perdon professoressa non pude ponere estos numeros perché stava prestando attenzione a los primeros dos ok claro si però bueno por logica lo se puede hacer quindi dice allora Vale adesso dove andiamo qual sarà la risposta? sì sì hai alcune altre persone che vogliono aiutare Verona possono dicere lo eh beh il museo civico civico secondo me è interessante ok sì poi ci sono degli quadri famosi occhio 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 degli e dei entrambi sono la regola di più degli è di più gli dei è di più i entonces si tiene che accordare la regola dello articolo determinativo quando si utilizza gli e quando si utilizza i qui tenemos una palabra mascolina quadri è una palabra per la qual si pone adelante l'articolo gli o l'articolo i o l'articolo o l'articolo o l'articolo o l'articolo o l'articolo o l'articolo per la qual si pone perché 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 è il caso general non termina o perdone non empieza ni en g p s o consonante o más consonante o con una buccal entonces por defecto es un y su plural es de esattamente corretto chiaro verona quindi ci sono dei quadri famosi e poi come andiamo avanti chiaro professoresa ok come seguimo luogo che sigue nel dialogo qual frase sigue no qui è tutto vicino anche a piedi no va bene dai è lontano ok corretto benissimo poi no qui è tutto vicino anche a piedi ok si vai avanti a leggere allora noi siamo qui qui nella piazza piazza ok vai avanti andiamo dritti per questa strada e poi perdiamo la terza sì la terza è sinatra e il sì la terza a sinistra il questo li corrisponde allo spagnolo agli e li e li ci ci sono il museo no occhio c'è ci sono c'è si utilizza quando la parola che segue è singolare e ci sono invece quando la parola che segue è plurale qui si parla del il museo quindi e lì c'è il museo ok però vedo c'è sulla strada c'è anche una bella c'è sa del 300 300 ok andiamo avanti qualcun altro sebastian bernardo bernardo giusto bernardo vidal bernardo vidal di professoressa ok la numero 5 qual è sì ok il museo la cessa del 300 ma ma ci ci sono anche delle trattorie tipici perché io voglio anche no 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 delle trattorie quindi femminile plurale tipiche tipiche ok perché io voglio anche mangiare e ok numero 6 numero 6 bernardo numero 6 ma certo il museo dame soggiorno è mezza alle 3 è chiuso possiamo mangiare vicino la prima sinistra è una via con tutti i ristoranti e trattorie che fanno piatti locali ok l'ultima numero 7 benissimo non lo so professoressa ci andiamo di sicuro allora esattamente è la regola che ho incontrato della preposizione di questa particella ci più il verbo andare che in questo caso la preposizione questa particella ci rimplassa si riferisce a un lugar e lo rimplassa invece di volver a decir benissimo andiamo al ristorante si dice ci andiamo andiamo questo ci si riferisce al ristorante ojo vuoi venire passare tutta la grammatica che abbiamo visto ok tienen che fare esercizio e se non tienen tienen che preguntar però ok vediamo l'esercizio numero 5 allora vediamo mandate le foto sul gruppo quale direzione qual è stato il percorso che hanno dovuto fare Matteo e Federico per arrivare al ristorante la cantina di Bacco le direzioni e le indicazioni erano che loro devono andare dritti seconda traversa seconda traversa e subito la prima a sinistra e qui si trova la cantina di Bacco corretto corretto interiero nel percorso corretto 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 ok 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 allora come tarea per la prossima semana vanno a tenere il caffè culturale a Gallo il caffè culturale perché lì trovate la differenza tra diversi modi di dire entre differente maniera de decir ok di come si chiama una strada si può dire strada si può dire via corso largo viale piazza vicolo sono scusate sei modi di indicare più o meno quello che può essere considerata come una caglie una simple caglie in espanol ok caglie o avenida ok in italiano però ciascuno di questi nomi para cada uno dei suoi nomi corrisponde ok una direzione ossia una ubicazione bien particolare ok quindi dovete fare il caffè culturale terminare tutti gli esercizi del capitolo sei e ora maggiorni vi voglio inviare la soluzione dei esercizi del lunas cinque ok me olvidate di inviare maggiorni vi lo voglio inviare van a terminare però tutti i esercizi del capitolo sei il caffè culturale e va nascendo tambien il test due il test due si trova a pagina il test due si trova a pagina 172 173 ok lo fate mi mandate una fotografia per che per per che io puoi aver aver qual è il live in quale si trova il test 2 non hanno che aver aver la risposta lo hanno che fare con lo con che che hanno aprendo ok sta chiaro? si professoresa. si professoresa. ok, ultimo asunto, il lunedì è il carnaval, come dice anche Antonio. allora, nel gruppo, per favore, bisogna scrivere già da questa mattina, per favore, se voi, se voi, ci sono o non ci sono per lunedì, per che con a Javier possiamo decidere se vanno a passare la classe o no, per favore. quindi, cada uno deve dire se il lunedì per la notte va a stare o non va a stare, in italiano sarebbe meglio, visto che lo sape dire in italiano, si ci sono o no, non ci sono. professoresa, in caso di che il lunedì, suponendo ipoteticamente che non si passi la classe, questa quando si passaria? la rispondriamo la classe? niente, simplemente il corso si va a prolongare un pochino ma e si va a recuperare, però non vamo a perdere la classe ni a recuperarla in un altro momento, simplemente si va a come a stare un rato più lungo il corso, ok? ok o se la idea era terminare ora questo corso per la final di marzo, o più o meno per lì, quindi simplemente hai una lezione più, o se, non vamo a perdere la classe, o se, tutto il libro lo facciamo juntos, così come le simulazioni e così come tutte le altre attività che abbiamo programato con Javier, la vamos a passare e a tenere, non si va a perdere nulla. ok professoressa ok, allora per favore scrivete nel gruppo la vostra presenza o meno per lunedì, ok? così poi possiamo dirvi se lunedì ci sarà o non ci sarà classe, va bene? se la classe non ci sarà tutti questi compiti saranno per mercoledì, ok? ok, altrimenti questi compiti sono per lunedì, ok? ok professoressa ok ci sono delle domande, tutto chiaro? eh scusi professoressa, eh, per il test 2, eh, che tempo tenemos? maximo e media ora, come lo del test 1, maximo e media ora grazie ok, prego allora se non ci sono altre domande vi saluto e ci vediamo settimana prossima, va bene? ci vediamo lunedì, professoressa eh, lunedì o mercoledì, vediamo che cosa deciderete, va bene? adio ciao, scrivete nel gruppo per lunedì per favore ciao, buona serata a tutti buona serata professoressa buonasera professoressa grazie, ciao Renato